Uno fa vivere una città di un'effetto diversa che vuole vivere personalmente e due anche fai solo una città. Tutto questo progetto si deve insieme, quindi le società in volte leggiamo le famiglie dell'assegno per cui ti oppure un nuovo concetto che è la sui runner, è un po' di più carteggio, poi abbiamo la propatria, propatria, propatria R.C., la Salvatore. Io sono Elisabetta Donisco, il direttore della struttura complessa di metodologia di Scuola di Startizio. Ringrazio davvero tantissimo la cittadinanza e il dottor Lo Schiavo e tutte le società che hanno partecipato per lo sforzo di raccogliere questi fondi che saranno importanti prima o poi, una volta che raggiungeremo il target economico per la ristrutturazione del reparto volto alla cura delle lucenie acute. Come avevo già detto quando sono intervenuta, quando gentilmente il dottor Lo Schiavo mi ha invitata a fare un intervento durante appunto la mobility week, i pazienti affetti da leucemia acuta hanno bisogno di essere trattati con delle chemioterapie intensive, quindi terapie che inducono una forte immunosuppressione e per questo richiedono dei reparti ad hoc con delle stanze dove la carica microbica, mediante la presenza di alcuni filtri, viene ad essere ridotta per ridurre quindi l'incidenza delle infezioni ed aumentarne la curabilità e la sopravvivenza. Quindi io ringrazio davvero la cittadinanza per aver partecipato a questa gara nell'ambito della settimana della mobilità che peraltro ha uno scopo salutistico anche molto importante.